Io Svaldo e Filippo li ho incontrati di recente, Nicola non vedo da un bel po' di tempo. Nicola non lo vedi? Ma forse non lo vedi, è morto. Nicola è morto? Oh, e com'è morto? E quello lo scopri di avere un cancro. Ah, ma ho capito, per questo è morto. No, allora è un infarto, come scopri questa notizia. Ah, allora è morto per l'infarto? No, allora mentre andava all'ospedale con l'ambulanza, ha fatto incidente e... Incredibile, guarda. Quando si mettono... Quando proprio era a destino che doveva morire. Sì, ma comunque, anche se fosse arrivato all'ospedale, c'era lo sciopero dei medici. Quindi comunque... Ah, io ho segnato, no? Beh, ma fa mandare che ho un funerale 11, ci vediamo, va bene, va bene.